Un'opposizione tenace, ridicevo, inflessibile, ovviamente volta alla collaborazione lì dove si dovrà collaborare, ci saranno i margini per collaborare e soprattutto un'opposizione onesta perché siamo stati sempre onesti nel comunicare, nel confrontarci, nel dialogare con tutti, anche con coloro che la pensavano diversamente o difformemente da noi e in nome di questa collaborazione io scardino immediatamente quello che invece si vuole far passare come coloro che siamo stati nemici, abbiamo attaccato, abbiamo rischiato di attaccare i cittadini salernitani hanno sventato un attacco, questo non è soltanto comunicazione di una persona che ha fatto l'accentratore per quanto mi riguarda posso dire di essere molto soddisfatta per il lavoro compiuto, si dice faccio che puoi, accada ciò che deve, io ho fatto tutto ciò che potevo, non rimpiango nulla e quindi vado avanti, vado avanti così come ho sempre fatto. Io guiderò l'opposizione per quella che sarà la mia parte, ovviamente se dovrò essere io il leader dell'opposizione si farà i conti su quel ruolo, se non dovrò esserlo si farà i conti su una squadra che questa volta sarà inflessibile e non latitante. Il dato sul quale faccio i conti è sulla totale assenza, cioè su un bipolarismo netto, così come è stato detto da qualche altra persona che è intervenuta poco prima di me o nel corso del pomeriggio, questo bipolarismo netto tra De Luca da una parte, Ferrazzano dall'altra e da una incapacità degli altri candidati di tirare, questo è il dato sul quale io mi soffermo, che mi conferma ancora una volta che le mosse non sono state sbagliate dal centrodestra.